Volkswagen of America Incorporation presenta la linea di rifinitura 2024 Atlas Pike Edition al New York International Auto Show. Ispirati al base cam concept mostrato nel 2019, gli elementi del rivestimento della carrozzeria creano un aspetto terrestre più robusto, mentre i dettagli oscuranti e una tavolozza interna unica elevano ulteriormente la famiglia Atlas del model year 2024. Il volto dei modelli Peak Edition si distingue immediatamente dalle altre finiture Atlas con un robusto cruscotto anteriore e rivestimento sottoscocca in argento. Un elemento di design AX nero lucido si estende lungo la fascia inferiore, preso in prestito da Atlas Cross Sport. Due strisce cromate spuntano su una griglia altrimenti oscurata, scorrendo su entrambi i lati del luogo illuminato. Spostandosi lungo il lato del veicolo, un grande vagge nero lucido adorna il pannello laterale anteriore con il logo Peak Edition in arancione e cromato. I cerchi in lega nera da 18 pollici equipaggiati con pneumatici old terrain 250-60 rafforzano la versatilità dell'Atlas, mentre i robusti sottoporta laterali in nero e argento rafforzano visivamente il look. Calotte degli specchietti retrovisori, cornice dai finestrini, passaruota e mancorrenti sul tetto neri completano il look black out di profilo. Nella parte posteriore una striscia nera del portelonne incontra un robusto diffusore nero e argento con cornici di scarico cromate. I nuovi colori esterni per la famiglia Atlas, esclusivi per i modelli Peak Edition, sono avocado green e pure grey. All'interno i modelli Peak Edition presentano un look distintivo che richiama i colori del logo. La similpelle Titan Black è abbinata ad accenti grigio chiaro e cuciture a contrasto arancioni. Gli inserti del cruscotto e delle portiere in un motivo a quadri nero metallizzato distinguono ulteriormente il look dal resto della famiglia Atlas. Una clip del volante porta lo stesso logo del badge esterno e l'illuminazione ambientale con 30 scelte di colori si abbina all'innovativa decorazione del cruscotto retroilluminato con la scritta Peak Edition. La linea di allestimento Peak Edition si unisce alla gamma Atlas 2024.